Sì, vediamo se è tutto a posto. No. Allora, intanto sento l'audio dal tablet, se è tutto a posto. Va bene. Allora, qui possiamo mettere solo la chat. Audio di sottofondo, ma è sovracciata. Applica. Ok, lo sto streamando a 720, vediamo. Un attimo ABS. 1.28720. Va bene, me lo sto giocando anch'io così. La prossima volta vi devo ricordare di giocarlo io a 1000. Vabbè, un po' di più cambia niente. Stiamo parlando di sciocchezza. Dunque, dunque, dunque. Vediamo cosa ho da fare. Forse c'era pronta una missione. Ho 27 crediti. Sono verso la fine del mese. Mancano 10 giorni. No, non ho missioni pronte. Caserma. I soldatini. Ho ferito un assaltatore. Mi ritrovo con un solo supporto. Ah, due. Due. Due supporti. Perché? Me ne ricordavo uno. Beh, beh, non importa. Catetere. Sto costruendo un nuovo generatore. E qua vorrei costruire un nuovo collegamento satellitare. Ma nello stesso tempo c'è da costruire. Vabbè, questo è il laboratorio opzionico. Tre unità di energia. E quindi, finché non c'è il laboratorio, ce lo scordiamo. Quindi direi di... Nord America non ha satelliti. Giusto. Nord America non ha satelliti. E in Asia non ha satelliti. Quindi i prossimi vanno lì. Mi sono fatto questa. Che è... Un'intera regione. Quindi un'intera continente. Diciamo così. Va bene. Va bene. Generatore elettrico a tre giorni. Cercare di togliere. Generatore elettrico completato. Quindi sono arrivato a... Quindi sono arrivato a... 5,70 euro. Qui metterò un altro generatore elettrico. Qui metterò un altro generatore elettrico. E qui metterò... Un... Direi che prima gli psionici. Mi sembrano... Ho visto... Che... Nel... 2. Sono... OP. Sgravissimi. Vediamo se è così anche qua. Disponibile copertura satellitare su... Brasile. Comandante. È in arrivo una trasmissione di massima priorità del Consiglio. Un amico che sconsiglio è sotto attacco. Eccellente. Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Allora, chi ci mandiamo? Ho fatto due missioni. Ho fatto due missioni. che non mi sono stati di grande aiuto nelle missioni di esplorazione delle navi aliene ma qui potrebbero essere utili direi due cecchini un supporto ce lo teniamo lo teniamo un po' distaccato e quasi quasi porterei anche una recluta quindi due cecchini un supporto una recluta un pesante un assaltatore ma si proviamola allora come supporto mandiamo il buon catetere che è a posto con le armi e tutto come cecchino questo aveva una bella abilità ok però io direi che punta secca si lo mandiamo insieme a punta secca punta secca è a posto la scheleton è quella con il rampino si caro tenuto te ne stai lì un attimo buono buono metto la scheleton ok ti do il plasma a tutti e due i cecchini poi supporto abbiamo già visto andiamo al lombardi però lo no attenti la granata che serve sempre antonio lombardi sei pronto per andare poi direi un pesante si facciamoli andare avanti pesanti un pochino e un assaltatore ancora di quelli tosti mando bombolo o la calamandrei ok volontà 62 perché 71 più 10 perché è già qualcosa aeroscope vabbè andiamo bombolo non so va bene e come assaltatore e come assaltatore quante missioni hai fatto? 5 si si va bene te perfetto d'ora castagna ci siamo direi che ci siamo siamo sicuri che gestirete questa faccenda con discrezione punta secca si poppins no bombolo si catetere mettiamo la castagna mettiamo l'altro cecchino punta secca e passa l'acqua giusto scope medikit scope granata aliena e infine la reclutina cazzo cazzo abbiamo solo 3 medikit diciamo così ma tutti sulle spalle di catetere allora facciamo così la recluta la recluta si tiene il medikit ma si dai la recluta si tiene il medikit non so se è giusto ma si dai volontà 40 cazzo sei proprio lì lì per 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 impanicarti va bene andiamo credo di aver fatto tutto eccellente attendiamo con impazienza i vostri progressi siete a posto con le armature cecchinano tutte e due i rampini vabbè andiamo andiamo siamo sul posto la Francia ci ha inviato una richiesta urgente d'aiuto basta ma non possono reclutare roboti che sono immuni al panico ma non possono ricevere addestramento tra l'altro io non ho capito questa cosa delle unità robotiche però sa chi quella cosa si chiama ship o qualcosa del cielo è un'unità robotica Thomas Hatch un buon amico del consiglio era su una limusine in fondo a quei gradini quando è stato colpito da un attacco alieno dovete trovare il signor Hatch assicurarvi che stia bene e portarlo sano e salvo allo Sky Ranger abbiamo un nuovo obiettivo allora cominciamo con i cecchini con la tua bella pistoletta stai di guardia con la tua bella pistoletta per ora stai di guardia la nostra assaltatrice ce la giochiamo safe ancora ce la giochiamo safe per il primo turno voglio che stai in copertura il lombardi voglio che stia di guardia no oh gli ho dato cosa succede lombardi dove sei ops qua lombardi stai di guardia lombardi cosa ho fatto tra l'altro che cos'era ah è un albero a chi ho cambiato l'arma laser a diffusione fucile gerard plasma no pistola no pistola no pistola ok e tu sei già di guardia caro il mio catetere stai schiscio stai schiscio bombolo eh bombolo non hai molte alternative sei lento scatta va mettiti lì almeno per il primo turno cominceremo andare avanti la castagna bisogna andare giù allora tu per ora rimani ancora qua ce l'hai le ah no tu qua ce l'hai la no non ce l'hai tu la bomba il scanner lo scanner ne hai due fin dove può arrivare può arrivare troppo vicino qua qua vai medio che niente scanner attivo ehi ci farebbe comodo una mano con queste cose castagna no fin dove puoi arrivare ah non ci arrivi come l'ho detto lo sprechiamo dai dimmi che vedi qualcuno ok ok io anche di qua ok occhio ai lati dove sono scesi giusto giusto allora di te si dovrebbe occupare lui tu ti occupi di questa proviamo non puoi ucciderli se non li colpisci tu lo vedi allora voglio che ti occupi cosa succede cosa succede succede precisione cosa succede cosa cosa cavolo sta succedendo questo cosa succede è un nuovo turno ho fatto qualche cagata non penso allora qui il problema è che non c'è copertura non c'è un cazzo di copertura un attimo non ho capito non ho capito cosa ho sbagliato lei si è mossa la castagna è un nuovo turno giusto o forse no vabbè allora tu bombola è l'attività è la no non ha l'abilità che attaccare al primo l'attacco l'attacco come prima azione non termina al turno quindi io però ho fatto attaccare quello sull'altro lato proprio per liberarmi di quello su questo lato con il cecchino ora tutte e due i cecchini hanno l'abilità della visuale di tutti i compagni quindi va bene ha già ha già fatto vabbè tu vedi allora tu dovresti vedere e se ti facessi uccidere da un altro questi sono o cooldown sì questi sono a tempo in realtà no in realtà no è meglio se ti colpisco proviamo a che mi ha incontro quindi ora il foco arriva un po' da tutte le parti è la più sfigata in assoluto tu devo aver sbagliato qualcosa ho dimenticato qualcosa ho dimenticato qualcosa io voglio che la proteggi cadetele lanciare una bomba sperando che da qui ci arrivi perché non sono mica tanto sicuro lanciare una fumogena non ho nessuna intenzione così una postazione un po' protetta tipo qua non credo però recluta che verde wow prova che ti devo dire non ero neanche accorto quello è di guardia chi è che ha avvenenato ma dai era nella nella fumogena attenzione ai fianchi eh sì dai che sen ma dai è la copertura della fumogena vabbè dai 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 su su vabbè fa niente non va bene alla prossima mi uccide la recluta copritemi il fianco grazie 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 la fumogena ha funzionato tantissimo la fumogena ha funzionato tantissimo cazzo non c'è un riparo neanche a pagare devo spostare lui lei ci arriva indietro io la devo curare assolutamente sì la devo curare assolutamente ci pensiamo dopo amico è il tuo turno 98 è quello di guardia anche è quello di guardia sì beh 98 dai vai che però potrebbe essere fatto fuori che però potrebbe essere fatto fuori cosa ho ancora la recluta è questo vuoi che non ce la faccia la recluta dai 55 beh se ce la fa lui siamo a posto se no uso il cecchino dai è giusto la mira sì perché questo lo voglio puntare vai dimmi che ce la fai non c'è nessuno di guardia lei arriva fino qua sì vai fino qua vai non c'è nessuno di guardia curala tornerai a combattere in un baleno alla prossima dice sf ficta ancora ma mi dimentico completamente dei nemici guardia, buono, 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 tranquillo allora ce la fai? 58 provaci regalo la mira quasi quasi inizia a tenere il conto a secco di munizioni ah io lo so che sia a secco di munizioni vai oh mi ero dimenticato hai riflesso i miei grande per quello se state cercando hatch se ne è andato non appena è iniziato l'attacco è corso lungo la strada verso quel furgone volevamo seguirlo ma ci hanno tenuto bloccati qui beh è tutto identica a un'altra mappa con più nemici praticamente allora tra l'altro mi sono perso dove sono gli altri non ci ho fatto caso vabbè vediamo ne vedo i due uno e due ok uno e due ci occupiamo di questo tutto 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 Grazie a tutti. Cosa? Ho sbagliato. Tu come stai a munizioni? Ok. Perché non lo vedi? Se lo vede lui... Ah. Ok. E qua lo vedi? Ricarica. Stai di guardia. Prova. Colpa vuota. E' bello nascosto. Lì c'è il veleno. Ecco la tatua e anche il... E' ora di ammazzare questo stronzo. E' una minaccia. Wow. Qui ti ha veleni. No. Uh. Deve ricaricare. Cazzo. Me l'avevo dimenticato. Facciamolo. Avanzo per attaccare. No. Dai con questo. Non ci provare eh. Non ci provare. Ma... Ma... La guardia... Vabbè, tu sei morto. 59. E ce ne sono altri? La perdo? Un attimo Punizioni finite, sono senza Minchia, tutto avvelenato lì Cecchino Non serve il critico Un attimo Grazie a tutti. Click, clack, bang. Ehi, c'è qualcuno? Sono qui, vicino al furgone. Siete umani? Grazie a Dio. Tiratemi subito fuori da qui. Siete umani? Se usciremo vivi da qui, metterò sicuramente una buona parola per voi. Dovremmo scortare subito il VIP allo Sky Ranger. Il fatto è, amico VIP, che sei circondato da una zona bella avvelenata. Grazie a tutti. Occhi aperti, signore e signori. Le informazioni indicano nemici in avvicinamento. Vabbè, ha fatto bene a mettere la guardia. Uh, in guardia anche lui, eh? E vabbè. Il nemico è ancora vivo. Dovrei farcela col cecchino. Dovrei farcela col cecchino. Sì, 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 qua ha fatto bene. Non muoverti, starai bene. Arma a secco. Uh, è finito il veleno. Ah no, solo da una parte è finito il veleno. Forse i miei uomini dovrebbero comprare l'equipaggiamento dai vostri fornitori. che cazzo fa? Ci faccio girare, mi spiace, ma ti faccio girare di qua. Castagna, vai un po' più in qua, va? Stai di guardia. Questi arriveranno da dietro adesso. Quattro. Quattro. guardia 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 no, ricarica pronto all'ingaggio sono lieto che i miei amici del consiglio abbiano organizzato questo salvataggio devo a tutti voi i miei più sinceri ringraziamenti scatta, va, tanto sono tutti di guardia secondo recenti informazioni i nemici avanzano verso di voi ok preparatevi ok allora cominciamo con te va d'accordo d'accordo perché attacco bloccato ok se uscirò vivo da qui farò in modo che riceviate tutto il supporto che potrò fornire al vostro progetto fin dove puoi arrivare amico? dategli la caccia fin 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 guardia ancora si 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 guardia è il nostro amico lo dobbiamo far salire fin dove può arrivare da nessuna parte ho sbagliato io a non muovere gli altri cosa ho fatto con r ecco le cazzate che faccio premo r r ricarica via va bene amico cazzo ma non mi ricordo se posso lasciarlo indietro occhi aperti strike 1 il nemico si dirige verso di voi ripeto nemici in arrivo sulla vostra posizione vai la sola comparsa non serve a allora non riesco a vederlo se è va bene scatto comincia a salire la testa aspetta 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 Oh, non mi ricordo se così finisce Avete rischiato la vita per me Vi sono infinitamente debitore Missione compiuta, gente Recuperate le armi e tornate a casa Allora, castagna sette giorni, va bene Passa l'acqua Che è il mio cecchino Profilo basso vuol dire la copertura parziale Wow, bella, bella Catetere Ti sei beccato Uno slot extra, bella lì E la reclutina è diventato una Ah no, cazzo Io voglio un supporto Va bene, un assaltatore, vaffanculo 13 cadaveri smilz, arma Ricordi, vi terremo d'occhio Io andrei a vendere qualcosa Ah, buc'è C'è C'è non facciamo una pausa da giorni ormai penso solo alla mia branda dai stamattina sono arrivati i nuovi ingegneri comandante siamo sempre lieti di ricevere altra mano d'opera il generatore c'è e ho 70 cosa devo costruire? questo aspettiamo il laboratorio opzionico prima di tutto 3 unità di energia, 200 e cominciamo dove lo costruiamo? qua mettiamo i laboratori qui metto un altro generatore qui ho un collegamento satellitare dai sì però adesso meglio questo ho 140 crediti che abilita pivelli e l'equilibrio che fosse il soldato? non morire maggiore il grado di insolato più probabilmente avresti ferito gravamente va bene andiamo in fonderia soppressione 40 140 ce li ho sì li costruiamo tutti e due oddio 100 facciamo lo storditore progetto completato piattaforma armi pesanti il mezzo super heavy infancy vehicle è un drone della battaglia controverso shiv nell'officina ah ok questo permette di costruire i shiv allora è il caso di cominciare a catturare i droni sì quindi avvia il progetto e avvia il progetto ok non tengo una lira ma i ragazzi della fonderia non restano mai con le mani in mano dirò loro che ha un altro progetto pronto per la produzione quindi tra tre giorni arrivano un bel po' di soldini 989 crediti che sono un bel po' continuo a dire che c'è un dislivello fra facile e normale a normale è un casino da gestire questa cosa figuriamoci da per mente no? lo sento io questo dislivello facile è troppo facile facile è davvero troppo facile io me la gioco con calma eh ma potrei probabilmente essere anche più aggressivo e subirei qualche ferimento ma non lo so mi sono morte un paio di mi sono morti un paio di soldati l'ultima volta forse perché l'ho giocata un po' alla cazzo beh non proprio però insomma ecco per le mie capacità gestionali e strategiche facile è troppo facile normale è troppo difficile non troppo difficile è che sono tante cose da gestire e è bene individuare le priorità ma facile puoi fare praticamente tutto almeno fino adesso ah volevo reclutarne dei nuovi ma non importa dai fammi finire il mese no comandante abbiamo ricevuto diverse richieste di aiuto i rapimenti in corso sono segnati sull'olomappa non sarebbe male con gli scienziati le ricerche vanno avanti non sarebbe male con gli scienziati le ricerche vanno avanti vabbè intanto decidiamo dopo cioè no non è vero perché comunque allora lasciamo stare mosca va bene arrivano i soldi adesso non mi servono ingegneri non sarebbe male perché però io non so quanti ingegneri ho 34 e 34 scienziati ok siamo messi benissimo loro ricerca perca miseria porca miseria questo è per gli intercettori ma sicuro ma sicuro prima non è vero perché se ne ho xxs certi知i infatti e io non sono ancora in Italia l'acqua questa ha fatto tuttavia abbiamo trovato un modo di spezzare le leghe e amico talmente usando il cannone, armi pesanti al plasma cannone al plasma intercettori e voglio un altro oh non ti ha personalizzato? non ha personalizzato questi allora mancini sei personalizzato? si, sei azzurro sei azzurro sei azzurro sei pelato sei azzurro Ilde Jakobsen non mi piace Ilde va bene Giacobina Assaltatore sei pelato mi spiace ok ti tieni questa etnia mi spiace Antonio Lombardi è il nome di merda Bombardi No, no, che schifo Allora, ti chiami Rammoli Turchi E tu non sei ancora nessuno Direi, 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 direi Vabbè, tanto Allora, questa missione va benissimo Due cecchini ancora Sì, sì, sì Ehm È il momento Di mandare avanti carotenuto Sì È il momento di mandare avanti carotenuto Scheleto Che è quello con il rampino, giusto? Sì È il momento di mandare avanti carotenuto E il buon pasto acqua Che forse ce le ha tutte Ah, no, no, no Facciamolo diventare colonnello Così almeno Sì, 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 sì E sei messo bene Con Scheleton, plasma, scope Va bene Sei messo bene Quindi mandiamo Passa l'acqua E il carotenuto E il carotenuto Facciamo se muore Mary Poppins Non esiste Non esiste Non esiste Se muore Mary Poppins Uh, devo dare a Devo dare a catetere Lo slottino in più Ah, mi ha messo già la granata Cos'altro posso mettere? Lo scope Ah, la granata ci sta Ci sta Serve sempre Quindi Facciamo una cosa del genere Una nuova recluta Perché voglio Ho bisogno che diventi Un Supporto Speriamo Voglio tre supporti almeno Cioè Un'infinità di Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Assaltatori Sei assaltatori Va bene tutto Allora Stessa cosa Ma andiamo avanti Un assaltatore Vabbè Si è ferita La povera Valdez E quindi Ballo faceva cagare Però Laser diffusione Distolo al plasma Ehm 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 Guarda Natalia Ne hai fatto una missione eh Fai cacare Mi raccomando Andiamo avanti ancora Mancini Sì 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 Ma andiamo avanti ancora Mancini Mary Poppins Sai la scheletua Sì Almeno No Punti vita Punti vita 9 più 3 Aumento la difesa 9 più 4 Però la difesa è 0 Scherzo Sì 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 Perché mi servi Nel caso dovessi arrampicarti Dovessi Dovessi Arampicarti Vabbè Quindi il buon passa d'acqua E il buon Carotenuto ok, buon passare a quel buon carotenuto la simpaticissima, allegrissima, gioiosissima Mary Poppins poi, mandiamo avanti un assaltatore che è il ballo il ballo, e un pesante e un pesante e un pesante, chi mando? il pesante è ferito no, 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 no e un pesante, un pesante mancini, abbiamo detto si, mancini, lo facciamo salire si, si, lo facciamo salire un po' e un assaltatore abbiamo detto ballo, pesante è la recluta, giusto che ho già preparato si, 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 si va bene, devo solo decidere dove andare devo solo decidere dove andare scienziato 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 catetere, no punta secca, non mi ricordo passa l'acqua, non mi ricordo Mary Poppins, si passa l'acqua sicuro passa l'acqua sicuro sperando che diventi sergente si, si, si va bene va bene caro tenuto hanno tutte e due perfetto, due cecchini mi vanno benissimo mettiamo la recluta mettiamo ballo il pesante che era Mancini credo ah Mancini dovrebbe essere a posto medikit che granato scopo la nataliena medikit va bene non abbiamo intenzione di quindi non abbiamo intenzione di catturare nessuno ok salvo oh sto facendo una cagata salva e andiamo con il licenziato andiamo andiamo preparatevi a partire la nuova missione è negli Stati Uniti abbiamo intercettato una trasmissione locale che indica attività alieni in una grossa area metropolitana siamo siamo nella metropolitana no no centrale big sky in posizione per raggiungere il luogo del rapimento strike 1 attende il permesso di sbarco ricevuto big sky strike 1 ha il permesso di ingaggiare bersagli ostili guardatevi le spalle gente dire Roulette non mi piace neanche un po non mi piace air ar tu puoi stare di guardia qua e poi te ne metto uno qua però non c'è no li avvicinavo grande fratello a te buono non ce l'hai tu la mina no il bico questi arrivano anche di qua sicuro riesco a coperti dai cominciamo con la guardia e a dare sparare ballo fai il bravo che l'ultima volta che hai fatto cagare stai di guardia con la pistola prima che passa fammelo fuori voi piacere allora pesante come al solito non può fare un cazzo vabbè senti avvicinati che ti devo dire mettiti qua stai di guardia allora conte abbiamo detto che vai di scatto e il buon caro tenuto che l'altro cecchino guardia con la pistola guardia con la pistola se tu entri poi riesco a coprirti allora se tu entri poi riesco a coprirti guardia con la pistola guardia con la pistola guardia con la pistola guardia con la pistola lo voglio uno sopra il treno dai vai tu vediamo com'è devo fare clic di sinistro sulle bia sulle bia Dove lo lancio? Più lontano che posso qua direi. Scanner operativo. Allora tu stai di guardia così mentre tu stai di guardia con il fucile da cecchino. Tu stai di guardia. No aspetta 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 aspetta. Perché non entrare? Perché non entrare? Stare di guardia lì dentro. Per ora con la pistola. Vale ancora di guardia. Truppe nemiche. Ok. Muoviti bello. Non c'è a guardia. Buono buono. Buono 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 buono. Ok. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Un attimo. Che è successo? Perché questo non può sparare? Ho fatto qualche altra cazzata? No. 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 Non c'è più nessuno. Vabbè sei soppresso. Non muovo. No. 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 Minchia. Che botta. No. 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 ah giusto e allora attacca dai togliere qualcosina tu non lo vedi neanche? si che lo vedi chi è che sta tenendo? ah ma sono due che lo stavano sopprimendo non vedi nessuno giusto no è sprecato allora piccolo tu che sei la recluta che deve diventare il medico quindi voglio che vai a ripararti no scatto no però ok curati va scemo di guerra ok allora 35 e niente però tu hai anche la che c'è la cellula quindi ti puoi avvicinare un po' ok 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 contatto what dimmi che il cecchino lo vede si dovrebbe vederlo cazzarola cosa faccio? cazzarola cosa faccio? sì sì voglio vederli qua si hai 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 sei hai 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 sei cazzo c'è quello lì, non è fuori, però c'è quello lì che mi vede uomini c***o 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 non serve a niente la guardia sono tutti appostati infatti mi muore ballo no vabbè lo posso rianimare c'è qualcun altro in copertura? c'è in guardia? si ma non gli ha fatto niente furia o omicida eeeh ballo eh amen facevi c***are? ho mille assaltatori ballo è finita qua per te lince sei lì? bello tranquillo no con la pistola laser amico eh non questo vai 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 ti ho messo lì in alto apposta ok l'altro ah che scemo prima devo portarlo fuori ha vai Lampino, via! Tu sei messa malissimo. Che altro c'è a coprirti? Meglio di niente, dai. E la modalità facile a volte aiuta un bel po'. Ok, allora. Quindi lo stranzone là, adesso cominciamo a prenderlo in due. Ok. No, non è il momento di attaccare. Attaccheremo. Sta in copertura, tranquilla. Attaccheremo domani. Ok, ok. Ho quelli sul tetto apposto per uno. Non li vede nessuno, purtroppo. Cazzo, non li vede nessuno. Eh, non so. Cos'è stato per uno? Allora, non vedi neanche questo tu, eh? Stronz di merda. Devo portare avanti. Tutti lui, che magari li vedevano. Ah, che pirla. Che pirla. Che pirla. Lo sapevo che non doveva andare lì. Ok. Minchia, ma quanta gente è arrivata? Oh, mica sono uno streamer io, eh? Calmi, calmi, calmi. Intanto ciao a tutti. Minchia, che bordello. Da dove arrivate? Boh, da qualcuno. Grazie, comunque. Non sono uno streamer, quindi... Mi gioco le mie partite. Calmi, calmi, bravo. Voxel. Che gioco è? È come Mario Rabbids. Diciamo che Mario Rabbids è come XCOM. Sì, 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 è vero. Ma come non sei uno streamer? Sto streamando solo per salvarmi le mie partite. Tranquillo. Se viene qualcuno chiacchiero, ma 24 persone io non le gestisco mica, sai. Shalla Family. Shalla Family. Grande Shalla Family. Allora, 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 allora. Ho fatto già la cagata, va bene. Perché non lo vedo più? È qua, però. Va bene. Eh, avanza di poco, ma metti qui qua. Tanto non li vede neanche la cosa. 007 spettatori. Bello quel progetto, sì. Ma anche uno basterebbe. No, ricarica. Si è messo troppo male. Amico, tu sei... Non hai volontà. Non hai niente. Sei messo malissimo. Dove ti metto? Dove ti metto? Qua ti vede... Là ti vedono quelli. Mettiti qua, va. Oh, se ti metto vicino a quello morto... Stai di guarda, dai. Io ti manderei anche più avanti, ma... Ma... Ma chi mando più avanti? Stai di guardi anche te, va. Se avessi avuto il cecchino con la tua... Vabbè, adesso... Ok, ok, ok. Allora, quanti me ne fate fuori tu? Allora, tu privavi tutto... Ne becchi solo uno. Però il più bastardo è questo. Sei punti danno. Chi altro ha ferito? Ah, c'è qualcuno altro. Buono a sapersi. Buono, buono a sapersi. Chi cazzo era? Non lo so. Allora, i due cecchini si devono occupare di studi... Di questi due stronzi. Ma ne vedono solo uno. Allora, visto che ne vedete solo uno... Mary... Se ti metti qua... Lo vedi? Sì. Sì. Ce la fai? Oh, ora capisco. Ora capisco. Allora... Questa è qui. Io colpirei quello lì. Sì. Sì, perché quello ci pensa la recluta. Sì. 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 Cazzo. no, no, eh no non va bene così eh, vabbè oh provaci no, non è possibile allora fai questo tu non hai neanche una granata no, eh, vabbè sì, devo per forza far fuori quelle per forza non uccidete la recluta che mi deve diventare un medico no, mi uccidete la recluta che mi deve diventare un medico tranquillo, tranquillo una granatina una granatina ci arriva è vero che ci arriva una granatina sì che ci arriva una granatina bye bye ora, dove saranno gli altri? ti metto di guardia perché secondo me li vedi e tu, buon passa l'acqua vediamo prima di tutto vediamo se se ne vedono altri destra, sinistra, destra, sinistra secondo me arrivano a destra stai di guardia chi è che devo ancora muovere? lui, ok vai stai di guardia io ho paura mandarlo avanti però no, non li ho ancora visti stai di guardia con la pistola va stai di guardia dai ma non vedi ancora nessuno stai di guardia stai di guardia avvicinati stai di guardia stai di guardia eeeh cazzarola niente scatta c'è la protettura destra? no ma c'è la parete? sì, c'è la parete perché? ah sì, sì, me la da no, non me la da non me la da non me la da eh, fa niente vai qua, ballo no, ballo vorrò 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 eccoli dai guardia col fucile sì 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 ok cazzo quante quanta vita ha quello quanta vita ha quello no, voglio che si protegga cazzarola 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 oh, prova no, aspetta 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 no, 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 no la recluta è sacrificabile ok ok questo sarebbe bello catturarlo ma oh oh madonna nooo ora si che si ha messi male perché lui lo può attaccare così però attacco bloccato attacco bloccato attacco bloccato attacco bloccato ok si avvicina a me che ho sparato giusto? sì ok no fino a 6 punti e poi? hm e poi devo scendere con uno uno di questi scendo con lui 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 perché non è selezionabile? perché non è selezionabile? ho già fatto il turno non me ne frega niente di quello il problema è il tizio che mi ammazza Mary Poppins di qua? eh non ho alternative non ho alternative non ho alternative pistola attacca dai speriamo sei tu e sei Mary Poppins dovrebbe andare ok ok e si muove e si muove lo stronzo ok 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 ed è fatta ok nemici pacificati niente colpi hm 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 dov'è l'amico era qua credo speriamo stai di guardia con la pistola si sarebbe mosso eh ah ce la fai? 100% 7 quello ne ha 8 critico vai un'altra vittoria bel lavoro comandante però intanto ho perso un'altra vittoria cazzo vabbè con i soldini ricordiamo un nuovo oggetto Vabbè intanto intanto Mamma mia quanti Vabbè ballo facevi cagare mi spiace per questo perché comunque ho bisogno di una berserker si è un berserker quello devo catturarlo vabbè vandico in Asia la ricontatteremo comandante vabbè ci devo mandare un satellite non ho molte alternative non ho proprio alternative dai 28 luglio fai finire il mese dai 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 ok bene lo compriamo subito appena arrivano i soldini perfetto interrogazione vai ok buono 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 non ho capito questo a cosa serve e quindi lo proviamo dai buono 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 i recenti risultati superano le nostre aspettative minchia quanti soldi e una simile dichiarazione del consiglio non è da prendersi alla leggera minchia quanti soldi ricordi vi terremo d'occhio bene 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 fuori 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 stamattina sono arrivati i nuovi ingegneri comandante siamo sempre lieti di ricevere altra mano d'opera allora l'opzionico ancora 11 giorni quindi ho bisogno di assolutamente c'era un'altra roba rete satellitare ogni collegamento adiacente a momento di una capienza dei satelliti eh ma un collegamento ad una rete satellitare è un collegamento comunque me ne da 3 e questo me ne da 4 dove posso costruirlo la rimessa cos'è che mi dava l'ingegnere 5 si 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 cazzo 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 allora eh non ha senso non ha proprio senso e se io smantello questo e se io smantello questo allora ho 61 di energia eh ne ho 9 quindi eh la rete satellitare 8 di energia a parte che costruisco un altro di energia si 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 ok 5 giorni costruisco la rete satellitare qua spreco il collegamento satellitare per 3 satelliti spreco il collegamento satellitare per 3 satelliti 2 più 1 3 dovrebbero essere 4 a dire il vero perché questo adesso ne da 2 ehm la capienza dei satelliti viene aumentata di 1 ogni 2 no di 1 ogni 2 e quindi mi da 3 satelliti generatore L arriva mh mh eh 30 42 fonti di energia lì lì finisce 30 ogni termine una generazione 100 ogni termine una legge si poi posso smantellare questo quindi vuol dire che qua quindi vuol dire che allora faccio un elerium faccio un elerium no cazzo questi sono a posto questi sono a posto questo se ne deve andare questo se ne deve andare quindi allora per questo mese faccio un elerium e un collegamento satellitare giusto? no perché non ho l'energia mi succhia no non mi succhia energia buono buono e poi metterò qua accanto un altro elerium e questo poi se ne andrà via dopo ok qua sotto ci sono quelli a vapore termici quindi metto due termici quindi ok ok calerium 275 vai non via ok 14 giorni e qui per ora metto la rete satellitare 8 unità di energia arrivo al pelo e 300 mi rimangono 200 crediti però ne ho 4 vai ok 21 giorni hai voglia arriva il panico ovunque entro 21 giorni a questo punto occupiamoci dei soldati un attimo un attimo a phoenix 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 laser ferma phoenix avalanche first ok granate aliene ne ho abbastanza per adesso anche se la farei 75 satelliti stealth non ho capito potenziamento scopo senza ombra di dubbio ok potenziamento scopo per forza shiv non ho ancora capito come si usa c'è di precisione al plasma per forza 200 cazzarola non ho ancora no non ho ancora no non ho ancora non ho ancora non ho ancora quindi lo usano gli intercettori quando buttano giù un UFO queste ne ho una 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 ce le teniamo così sci fluttuante lo facciamo lo useremo firestore il posto degli intercettori no proviamo questo perché devo vedere come funziona poi cosa mi rimane 179 credito tutto un cazzo di mese davanti allora o il miglioramento allora 79 la corazia del muton contiene dei strumenti nelle armi permettendo agli animi di vittare la punizione potremo applicare la strumenti alle armi dei nostri soldati cattura dei droni cazzo cattura dei droni no non ho capito però il lo storditore migliorato apprezzo apprezzo i suoi sforzi nel sostenere i ricercatori comandante ho già messo le nuove reclute al lavoro nel laboratorio cattura dei droni cattura dei droni o potenziamento scope così potrei farne due 150 non ce la faccio cattura dei droni sì dai la mira va bene però adesso spero di non aver fatto una cazzata va bene mi assicurerò che la produzione cominci subito non appena avremo qualcosa l'avvertirò no volevo reclutare ma non c'ho soldi vabbè sono messo bene ho ancora questi due da far crescere vediamo il progetto shiv con soppressione è stato completato devo comprarlo devo crearlo anzi no non era lì era qua no non è vero vabbè non ho idea non ho assolutamente idea sette giorni per le opzioni con un veduzione scalo completato buono tu sei il shiv ok come lo uso continuo cattura droni ok continuo nuova ricerca cannone elettromagnetico disponibile al progetto di riparazione shiv disponibile alla fonderia il cannone elettromagnetico è stato sviluppato con la patola elettromagnetico con la metà del telefono viva una funzione del telefono abbattuti sebbene disattivi stimolini vuol dire che è per l'intercettore porco dici le piccole drone all'elettrina potrò aggiungere gli storditori permettendo di sfruttare il combattimento gli storditori quanto cazzo di roba c'è no voglio l'autopsia ah no l'ho preso no no berserker è morto gli uomini chiamavano questa bestia berserker sebbene condivida la stessa struttura del muton per ragioni a noi ancora ignote il berserker sembra essere consumato dalla sete di sangue e non aver riguardi per la propria sicurezza stimolante disponibile per la produzione quanto cazzo di roba c'è titan vai avvia il progetto abbiamo una grossa rilevazione e si avvicina rapidamente avremo qualche difficoltà a starle dietro eh ho solo questo speriamo pronti all'ingaggio eeeh sto raggiungendo il bersaglio mi rush rush evita ok è andata bene che culo va bene ci prepariamo la squadra allora qui un solo cecchino non c'è niente da fare eeeh porterei due supporti un assaltatore no si facciamo così eeeh i supporti no tutte e due poi se mi muoio ma cazzo mi porto gli assaltatori con il kit medico se due assaltatori con il kit medico un cecchino direi di se eeeh direi di se proviamo vediamo chi possono andare allora vabbè ho tra l'altro sono tutto due della stessa nazione ehm mando Mary Poppins salvo e se mi muore torno indietro qua proprio non esiste che mi muoia Mary Poppins ehm mandiamo un pesante forte e i due assaltatori forti sì per forza devo sistemare devo sistemare sia cacace che caro tenuto perché non ce l'ho perché perché ce l'ha lei sì pompa pistola normale granata normale allora cacace ci becchi questo eeeh ma l'ho fatto eeeh no non l'ho fatto quindi non mi serve lo storditore anche se è un berserker secondo me l'ho preso un berserker accedere gli archivi eeeh autopsia interrogatorio no non l'ho mai preso ah tra l'altro chi lo sa se c'è un berserker no ti becchi la granata no ti becchi cazzo no ti becchi no ti becchi no ti becchi no ti becchi no dov'è l'altro cacace e a posto poi l'altro assaltatore me lo son perso cacace a posto fa squalino sette brulezze ok i due assaltatori sono pronti poi mandiamo mary poppins che è pronta perché no scheleton va bene che teneva in su se c'è bisogno ok poi mandiamo facciamo salire un facciamo salire un cecchino dai dovrebbe essere a posto vai la scheleton se a posto si 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 a posto ma diamo carotenuto i due assaltatori il supporto carotenuto a questo punto un pesante e farei salire bombolo a questo punto perché si farei salire bombolo sei a posto carapace arma pesante laser lancia razzi sei a posto cos'hai le munizioni contro i robot razzi trituratori si 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 a posto cosi ursula sei pronta so cazzi ursula carapace fucile al plasma pistola laser medici ursula 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 mi raccomando è volontà 40 ursula ti vedo male mary poppins facciamo una cosa tiriamo via le corazze si 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 tiriamo via le corazze nelle navi non si no lasciamo lasciamo non si sa mai magari trovo una nave particolare abbiamo detto catetere no mancini no carotenuto non mi ricordo basta l'acqua no mary poppins si bombolo si carotenuto era il primo che il cecchino che volevo far salire si va bene poi i due assaltatori mettiamo il bel cacace e il buon sette bellezza e ursula mi raccomando la tua prima missione piccola non fare brutte figure medikit granata scope granata aliena medikit e granata scope cazzo no gli assaltatori però l'ho sbagliato si 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 perché vi mando troppo allo sbaraglio quindi ho tre medikit qua quattro cinque medikit speriamo va bene salviamo andiamo tutta posta bombolo che abilità avevi munizioni esplosive area pericolosa non me la ricordo più razzi trituratori ah giusto buono 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 appuntamento grafico buono la soppressione non l'ho messa nessuno praticamente avvia strike 1 prepararsi allo sbarco le autorità del brasile hanno richiesto il nostro aiuto perciò ci reccheremo lì sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsamente popolata se nell'area ci sono dei civili spero che si tengano alla larga rispondete QG big sky ha raggiunto il punto esterno ci avviciniamo al luogo dello schianto la squadra attende i vostri ordini affermativo big sky strike 1 è libero di ingaggiare bersagli ostili sul luogo dello schianto cecchino te ne stai qua li guardia con la pistola che caccia cominciamo ad andare avanti allora vediamo chi ti può coprire lei non ti può coprire qua ci arriva si lei ti può coprire ok lei ti può coprire ok lui no perchè si muove alla cazzo ma comunque meglio di niente quindi caccia c'è pronti andiamo va non aver paura di niente vai così bella lì allora tu lo vai a coprire qua e stai di guardia mi sa che è bella grossa sta nave la reclutina la reclutina se ne va qua li guardia intanto non supera niente amico tu scatta va bisogna che stai davanti un po' e pasqualino anche tu no tu non puoi scattare molto tu non puoi scattare molto vai qua tranquillo qui finisce la mappa qui si sale minchia se è grande caccia c'è un attimo perché qui la vedo male tu puoi andare fino qua in alto ma chi ti può coprire Urlich può andare lì e può andare qua va bene che caccia c'è il nostro uomo di punta sembrerebbe una nave da rifornimento la potenziale capacità di carico è incredibile se gli alieni stanno davvero cercando di portare tanto materiale esterno può solo significare che si preparano ad ampliare l'invasione ebbè abbiamo detto che lei può andare a coperti qua non è proprio una gran copertura però e stai di guarda con il tuo bel fucile al plasma bombolo un attimo però però bombolo può andare qua vai 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 bella 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 e stai di guarda anche tu non si sa mai ok pasqualino sette bellezze io ti mando qua e dopo mi apri la porta mary poppins chi cominciamo a tenere sotto qua li sto aprendo troppo li sto aprendo troppo tipo tu non sono ancora riuscito a metterti in guardia lo metterò qua tu intanto apri no aspetta aspetta cerchiamo di capire allora bombolo fin dove può arrivare da nessuna parte può andare qua di scatto mary poppins ah da nessuna parte cazzo ma qui ci si può camminare sopra? si direi di si intanto ma non è da aprire questa porta no no non entri fino a che non cazzo qua c'è il teletrasportino ah qua si può salire cosa c'è su? ma il cecchino lassù non mi serve a niente mi sa anche se ho la sensazione che saliranno allora cominciamo ad entrare di qua aprila ok bene no berserker no cazzo no no a destra no no ah cazzo un attimo un attimo un attimo un attimo tu lo colpisci ok lui ti ammazza cominciamo così va cominciamo così va quanto gli togli? fino a sette vuol dire cinque vedrai qua il cecchino qua il cecchino cosa fai? ti avvicini e mi colpisci o ti avvicini? ti avvicini? ti avvicini e non mi colpisci? ok allora cecchino 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 do cazzo stai perché non lo vede? perché non lo vede? non capisco non capisco con lui con lui devo ancora decidere perché deve mettersi di guardia sicuro come loro ce ne sono due qua dentro ora dobbiamo occuparci di questo stronzo ah no cazzo non ho molte alternative allora un po' colpirlo lupo colpirlo lei e mary poppins non lo vede mary poppins non lo vede scatto cazzo allora lei si deve per forza avvicinare se no mary poppins non lo vede dove la metto? qua si protegge un po' di più lui scende e forse lo vede anche il cecchino a quel punto dov'è il cecchino? qua si allora la posso mettere qua? o posso già mettere mary poppins qua? no non ci arriva lì ok lei deve andare qua lei deve andare qua qua e sparargli così lui si avvicina sempre che lo colpisca non l'ha colpito ma lui scende? dannazione non scende cazzo allora vai tu qua sperando che lo colpisca scende 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 non è sceso cazzo questo questo lo fa fuori ma poi si becca questi e non ho tante alternative deve colpirlo deve colpirlo deve colpirlo deve colpirlo che cazzo pistola non ho alternative speriamo dai ok e il nostro amico lo mettiamo di guardia con il laser di fusione va bene e se invece andasse qua se invece andasse qua non ho capito si mettiamolo di guardia granata 5 punti no 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 di guardia di guardia si di guardia vai o mi spara o si muove per sparare sono sotto fuoco pesante qui minchia minchia ok non c'è problema tu puoi attaccare si allora intanto dobbiamo portare avanti qualcuno cosa ho fatto ok allora tu te ne stai fermo lì cosa hai tra l'altro le medikit no è la granata ok ok vede qualcuno 55 allora il cecchino non vedrà nessuno sì sì che lo vede dai non vedrà in non vedrà non vedrà non vedrà Allora come li faccio fuori? Questi hanno 8 Sì, per il giù di Sì, grazie per farlo Per il giù di come cazzo è morto con la manina che tu lo puoi stabilizzare però ci sono un po di turni dai tranquillo ce la facciamo dopo non ci arriva uccido il mio soldato bloccato 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 vai ok tu sei una merda di cecchino perché non vedi niente non vedi assolutamente niente ok ok Bye bye X-ray, attenta! Doi turmi ancora, ok ... 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